Ciao a tutti, è tornata la rubrica Libri Trasgri. Come vi ho già detto, la rubrica Libri Trasgri si concentra maggiormente su opere letterarie che offrono delle argomentazioni, delle tematiche piccanti, diciamo, e al contrario, ad esempio, della rubrica Libri Trash copre un'ampia schiera di qualità letterarie, dal libro bruttissimo al capolavoro. In questo caso stiamo per parlare di un libro epocale e importantissimo per la letteratura ed è Venere in pelliccia di, non so se lo pronuncerò correttamente perché io il tedesco non lo so, Leopold von Sacher Masoch. So che esiste ma non so pronunciarlo, va bene. Se qualcuno conosce il tedesco mi dica, per favore, se ho pronunciato correttamente o altrimenti mi scriva la pronuncia esatta. In sostanza, Leopold von Sacher Masoch è uno scrittore austriaco, diventato importantissimo perché dopo The Sad ha offerto una nuova visione dell'erotismo turbolento, dell'erotismo dove l'amore viene vissuto come lotta di potere. Quindi The Sad è altrettanto influente quanto Masoch perché attraverso la sua letteratura dello studio di determinate perversioni si è tratto il nome sadismo, dove per sadismo si intende una pratica in cui una persona, per godere sessualmente, ha l'esigenza di impadronirsi di una vittima, diciamo una vittima che sia disposta ad immolarsi per lui, però che è un punto di vista totalmente diverso dal Masoch, ovvero il masochismo, altra perversione da cui deriva, il cui nome è derivato appunto da questo scrittore. Il masochismo, al contrario del sadismo, innanzitutto il sadismo ha bisogno di istituzioni, mentre il masochismo è più un'esigenza contrattuale. In che senso? Per quello io dico che E.L. James con 50 sfumatori di grigio non ha ben chiaro un rapporto sadomasochistico, perché il masochista, in sostanza, ha l'esigenza e ha la ricerca perenne di qualcuno che possa spingermi ad un piacere attraverso l'umiliazione, il dolore fisico e psicologico. Ed è quello che viene trattato qui. Tant'è che lo stesso Masoch soffriva di masochismo, ed era anche, aveva sviluppato questa sorta di parafilia per determinati capi d'abbigliamento, come ad esempio Le Pellicce, e siamo, come arco temporale letterario, siamo nel 1878, quindi comunque è considerato tutti gli effetti un classico, e presenta una tematica che viene portata in tutte le salse, anche nella letteratura, nel cinema contemporanei, però non ha mai smesso di scatenare un po' i pruriti di certi perbenisti, quando in realtà non è altro che una pratica erotica, ormai abbastanza normale, tra virgolette, nel senso se ne è parlato in tutti i modi, non dovrebbe più scandalizzare a questo punto questa epoca dove tutto è accettato. Ecco, ma il fatto è interessante, comunque, che ha reso questo libro veramente epocale è la capacità di scrittura di un rapporto del genere, perché, cioè, questo libro, ovviamente, ma è quasi una blasfemia a fermare il contrario, caga in testa alle 50 sfumature di grigio, ma anche a buoni libri che hanno trattato il tema. Questo libro è veramente straordinario. Diciamo che ci sono anche degli aspetti autobiografici dell'autore, che però è conosciuto più che altro per la sua vita turbolenta e le sue controverse perversioni personali, ma al di là della vita che può essere sbarazzina dello scrittore, bisogna valutare sicuramente le capacità di scrittura, che in questo caso sono straordinarie. Diciamo che Masoch tratta un rapporto di coppia, un rapporto di coppia che viene vissuto precisamente come un rapporto di classe, una lotta di classe, una lotta continua e impossibile da scindere, tra il personaggio maschile principale, che è Severin, e la protagonista femminile, che è Wanda, dove Wanda è una donna crudele a livelli disumani, però la particolarità che appunto interessa l'aspetto masochistico, in questo caso puro, ovvero che è Severin a vivere questa condizione di contemplazione del corpo femminile, infatti il corpo femminile viene visto in un'aurea quasi artistica, infatti c'è anche la simbologia delle statue, anche il fatto che comunque il romanzo sia ambientato in città d'arte, gran parte del romanzo si svolge anche in Italia, a Firenze, con descrizione delle strade artistiche, c'è una grande attenzione anche al lato letterario, filosofico, si parla tranquillamente di Goethe, di Hegel, e anche lo stesso rapporto sessuale viene vissuto attraverso, quasi a livello filosofico, quasi a livello mistico, infatti il libro non è altro che, oltre che essere una spiegazione, un modo inedito di trattare la sessuale, all'epoca, però tuttora secondo me, un modo inedito di trattare il rapporto sessuale amoroso tra l'uomo e la donna, che qua viene visto in toni quasi pessimistici, nel senso che comunque è interessante perché non vi è né una visione maschilista né una visione femminista del rapporto, ma allo stesso tempo il rapporto viene visto come un'incapacità di intendersi da entrambe le parti e quindi c'è il destino che uno dei due componenti della coppia finirà sempre per prevalicare sull'altro. E quindi è una messa in scena, diciamo quasi grottesca, ma non per questo non credibile, di un rapporto amoroso in sostanza, un rapporto che avviene anche attraverso il contratto e che poi sfodera soprattutto nella seconda parte del romanzo tutta la sua furia, perché in sostanza il rapporto che si crea tra Wanda, e stavo dicendo che è questo l'aspetto masochistico puro, ovvero che Severin in verità è alla ricerca bramosa di una carnefice, ma Wanda è completamente esente da queste fantasie, ma diventa in breve tempo la carnefice pronta a mutare i propri sentimenti nei confronti dell'uomo. Quindi è Severin che attraverso il suo desiderio pone Wanda in un contesto di potere assoluto, di despote. E questo rapporto viene spiegato in un modo cristallino, turbolento. La scrittura qui è meravigliosa, perché il libro dura quanto deve durare, è lungo 150 pagine, quindi relativamente poco. Ed è perfetto in questa lunghezza, perché è conciso, è conciso e la scrittura è tale affinché si renda questo sentimento di bramosia di Severin, che non riesce a staccarsi da Wanda, e l'aspetto psicologico del personaggio maschile è tratteggiato con una magnificenza assoluta, nel senso che noi il suo turbamento, anche se si è lontani dalle sue perversioni, il suo turbamento interiore lo si sente realmente, e per quanto a tratti ti venga quasi da dirgli ma sei un po' un pirla, il turbamento te lo fa sentire, ti fa quasi credere di essere al suo posto, ti convince fino in fondo. E dicevo che la scrittura, la durata così breve del romanzo, è perfetta, perché la scrittura è turbolenta, è veloce, è carica di carnalità, è erotica allo stato puro, però allo stesso tempo non è volgare, non racconta troppo, è sempre lì sulla soglia, anche quando la violenza, quando Wanda capisce che lei con la sua frusta può fare qualsiasi cosa, e scaglia queste frustate dolorosissime che te le fa sentire da quanto sono scritte bene, non racconta mai troppo, si ferma sempre un passettino prima nella decenza del buon gusto, ed è elegantissimo, nonostante la storia che può essere controversa quanto vuoi, la narrazione che controversa quanto vuoi, che allo stesso tempo pone delle riflessioni importantissime, interessanti, sui mondi uomo e donna, su anche la costruzione di un rapporto al di là dell'amore, del sesso, è elegante, è sinuosa, è barocca, e te la fa sentire questa esigenza di essere vicini alla bellezza, che la bellezza qua è incarnata da Wanda, che è la donna crudele, ma allo stesso tempo è un'opera d'arte, è una statua, è statuaria questa donna, non ha emozioni, e molto spesso viene paragonata a una statua, ed è un racconto bellissimo, è straordinario, io ve lo consiglio caldamente, ed è molto più trasgri di quel che si creda, però sempre nella decenza del buon gusto e dell'ottima letteratura. Fatemi sapere se lo conoscevate, fatemi sapere se siete interessati a leggerlo, se non l'avete letto, se l'avete letto, se lo leggereste, e vi saluto, alla prossima!